Ragazzi buongiorno oggi vi faccio fare un tour del mio appartamento a Dubai perché finalmente abbiamo finito di arredarlo ora senza aspettare entriamo poi come sempre alla fine vi do un dettaglio di quanto abbiamo speso e quanto sto spendendo per questo appartamento ora benvenuti questa è l'area eating con il cucinino con tutto l'indispensabile frigo eccetera cosa interessante dato che questo appartamento non è grandissimo si tratta di circa 45 50 metri quadrati abbiamo messo un po di storage unit in giro e finalmente da una settimana non devo più utilizzare questa scarpa ortopedica abbiamo le birchstock la destra è allargata al massimo perché questo piede è ancora enorme però pian piano sto recuperando se vi interessa un aggiornamento dell'incidente ora qui c'è tutta l'area della cucina il tavolo dove possiamo mangiare fino a quattro persone se ci sono più di quattro persone in questo appartamento si esplode qui come vedete c'è tutta l'area living con la mia postazione di lavoro e il set per le riprese dato che la cosa più interessante ve la faccio vedere dopo nel dettaglio prima di tutto vi presento la nostra mascotte lui è lei lui o lei lei è la nostra mascotte si chiama acciughina piacere di conoscervi mascia vuole tantissimo un gatto per il momento abbiamo questo andiamo avanti è piccolino l'appartamento però comunque abbiamo un bagno più che degno con una doccia incassata se si dice così ci si sta più che volentieri andiamo fuori è un bagno normalissimo forse l'unica cosa interessante qui dopo il mio incidente su vari consigli ho comprato un sacco di tutori silicone e tra l'altro in questo momento sto utilizzando la coppia di questo sembra che io abbia cinque dita in realtà qui c'è questo cosa di silicone che fa in modo che le due dita non si pieghino su loro stesse e fa in modo che anche il piede stia in una posizione naturale dettaglio andiamo avanti qui abbiamo una sorta di zona ripostiglio con la lavatrice tutta ben organizzata con tutte le cose necessarie per tenere questo appartamento in ordine andando avanti qui sulla destra abbiamo l'unica camera da letto normalissima camera questa è diventata praticamente la postazione aggiuntiva di mascia che si mette stesa a letto con il suo bel computer e lavora fa cose chissà cosa sta facendo mascia cosa sta combinando qui incastrato incassato a muro abbiamo il nostro armadio questa è la mia parte tutta ben organizzata poi sta a voi a giudicare dall'altra parte c'è la parte di mascia quindi noi non guardiamo privacy l'ultimo arrivo di questo appartamento è la tv di cui possiamo tranquillamente godere dal letto è un bel 75 pollici samsung the frame proseguendo vi faccio vedere quella che è la mia postazione c'è tutto il necessario noi abbiamo in questo momento tra l'altro questo è un tavolo ikea che volendo a manovella ostia di dio che volendo a manovella si può anche alzare ed abbassare secondo le esigenze ormai mi conoscete io ho quasi sempre l'ultimo e più potente macbook per fare tutte le cose di cui ho bisogno per produrre i video qui abbiamo una bellissima sony a7c di solito come avete visto anche da tutti i miei video per registrare uso questo bellissimo microfono della shore poi comunque in descrizione vi lascio tutti i link di tutte le cose che sto menzionando nel tempo ma sempre con me c'è attaccata la fotocamera il microfono della road per fare da backup poi attaccato a tutto questo bellissimo crocchio che se vi ricordate avevo già creato quando ero a londra c'è una normalissima luce a led frontale e come background se avete seguito i miei ultimi video c'è tutta questa bellissima postazione a cui si è aggiunta questa fantastica tv accendiamo giusto per spizio e la seconda postazione con questo fantastico imac che tra l'altro arriva dagli stati uniti vi lascio una gag quando l'ho aperto ho scoperto che per trasportarlo ho fatto danni ultima cosa da menzionare qui dentro soprattutto se vivete qui a dubai per favore acquistate un filtro per l'aria l'aria dubai non è per niente buona perciò da avere sempre io ce l'ho qui al centro del dell'appartamento che in teoria dovrebbe coprire tutto mi sono dimenticato di citarlo in questo mobiletto come vedete ho tutta quella che è la mia power station con tutte le cose da prendere al volo mettere dentro lo zaino con cui poi parto e inizio tutte le mie avventure cosa interessante qui sotto abbiamo che si sta ricaricando l'aggeggio che io utilizzo per la magnetoterapia che serve a ricostruire le ossa del mio piede durante la notte lo attacco con questa fascia attorno ci dormo così è molto scomodo però è una cosa che devo fare dato che le ossa devono riformarsi ora andiamo fuori in questo momento ci sono 41 gradi siamo ad inizio settembre oppa fa caldino però la cosa più bella di questo appartamento e poi vi lascio delle foto perché sono sicuro che da video non rende li abbiamo la vela e dall'altra parte abbiamo tutto lo skyline con il bus califa che svetta al centro la video probabilmente non si riesce a godere perché d'estate c'è tutto questo pulviscolo che un po va a sfocare la vista però in sovraimpressione vi lascio alcune foto fantastiche che ho scattato da questo terrazzino tra l'altro il tramonto va giù lì a fianco alla vela e molto spesso è molto figo ora rientriamo così vi do anche tutte le cifre per questo appartamento di arredamento abbiamo fatto tutto da ikea e ovviamente escludiamo tutti gli oggetti tecnologici la tv la imac perché altrimenti vi do una cifra che non ha senso più o meno sottolineo di arrenamento soltanto circa 2500 euro quindi veramente pochissimo poi ovviamente se andiamo ad aggiungerci tutta l'attrezzatura tecnologica 5 10 mila euro ora non so neanche di preciso quanto mentre per quel che riguarda l'affitto se volete avere tutte le cifre nel dettaglio e vedere anche tutte le zone condivise e comprese nel prezzo qui abbiamo piscina palestra co-working area gaming insomma tante altre cose andatevi a riprendere questo video dove pago e entro nell'edificio comunque ora in velocità spendiamo circa 1500 euro al mese di affitto più 200 250 euro di spese quindi un totale di 1750 questo però l'abbiamo pagato a febbraio di quest'anno probabilmente ora dato la richiesta altissima di questo edificio i prezzi saranno aumentati anzi ne sono quasi certo perché guardo quotidianamente perché sto già cercando un appartamento più grande dato che adesso convivo con mascia e quindi siamo in due abbiamo bisogno di più spazio il tutto è in continua evoluzione perciò se volete avere aggiornamenti quotidiani andatemi a seguire su instagram iscrivetevi al canale se volete continuare a vedere e a seguire tutte le mie avventure lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura ciao a tutti ragazzi